Prestazione super della Pergolettese che si riscatta dopo la brutta prova di tre giorni fa e vince sul campo della seconda in classifica Seregno. Resta un mistero come i gialloblu abbiano potuto dar vita a una prestazione totalmente opposta a distanza di soli tre giorni. Quello della continuità è un problema che affligge tutte le squadre del girone, Castiglione a parte, squadra che non a caso è prima in classifica e in fuga solitaria. La cronaca del match parla di un primo tempo che è stato molto equilibrato con poche emozioni. Al decimo colpo di testa di Lorenzi fuori di un metro e al diciannovesimo tiro che termina fuori di Brunetti. Al ventiquattresimo è Comi a tirare alto dal limite. Nel finale di tempo invece un errore di montaperto offre una ghiotta occasione a battaglino che non ne approfitta. Nel secondo tempo al terzo cambia la partita grazie al gol di Lorenzi, pescato da un assist di bastone e bravo a superare Cortinovic con un tocco raffinato. Ci si aspetta la reazione dei Brianzoli ma arrivano tre palle gol limpide per il Pergo, con Martinelli che perde l'attimo buono per la conclusione dentro l'area, con Lorenzi che tira alto e con Manzoni che si vede salvare da Lacchini la conclusione sulla linea. La squadra di Venturato vanifica successivamente altre buone azioni in contropiede, tanto che cattivi presagi di un'eventuale beffa si prospettano all'orizzonte, ma fortunatamente non si concretizzano perché la Pergo Lettese porta a termine con sicurezza la partita, correndo un solo rischio al 34esimo su tiro alto di Cortinovic. Adesso c'è la pausa, poi la sfida contro la capolista Castiglione.